Ciao, come state? Tutto bene? Grazie che siete qua con me, benvenuti sul mio canale. Come finisce una relazione con un narcisista? Sappiamo tutti com'è la fase iniziale, no? Quando è tutto super in love, lei o lui di te, ti senti la più desiderata, il più desiderato, la più apprezzata, la più top, il diamante mai scoperto da nessuno, ma solo adesso. E tutto corre molto molto veloce, lui o lei è tanto bisognoso di te, ha bisogno del tuo amore, il tuo amore è come aria per lui o per lei e tutto corre ad una velocità pazzesca, no? E' come se tu perdi questo treno, è come dire hai perso tutto nella vita, o tutto adesso o mai più. E' una fase in cui tu ti senti adorata, ti senti apprezzata, ti senti là sul piedistalo, ti senti la migliore, senza sapere che è una fase in cui lui acquisisce il potere su di te. Perché al suo minimo passo indietro, non so, non ti apre la portiera in quel modo, non ti porta più i fiori, non ti risponde subito ai messaggi, inizia a ritardare, non so, agli appuntamenti, oppure a dar buca, oppure a casa, non torna più così puntuale, no? E non ti fa più sorprese, ecco, quando inizia un po' a sentirsi il suo menno, no? E tu hai paura, perché dici, oddio, cosa è successo, ma cosa ho fatto di brutto, cosa ho fatto di, non so, ho di sbagliato, perché non ha reagito subito, perché non mi ha mandato il messaggio subito come sempre, perché non mi ha mandato il suo buongiorno. Perciò si può dire che questa fase di love bombing è una fase che ha a che fare con il potere, con il creare dipendenza, con il controllo anche, con l'idealizzazione. Io dico sempre nei miei video che sin dall'inizio, sin dalla fase di idealizzazione, di infattuazione, di love bombing, c'è sempre un segnale d'allarme che viene trascurato. In qualche modo lui o lei si fa vedere per quello che è, però in quella fase si fa un po', si lascia perdere, dice ma no, ma cambierà, ma non è possibile, ma no, vedi quanto è premuroso e attento, e non può essere così come si è mostrato, non so, quando mi ha buttato in faccia, non so, davanti agli altri, o quando quasi non voleva più sposarsi, oppure quando non voleva vedermi, quando ho preso una pausa. C'è sempre, c'è sempre un segnale d'allarme sin dall'inizio. E poi comunque, come dicevo nel video precedente, dicevo, fate attenzione, appena conoscete una persona dove magari c'è il dubbio che può essere un narcisista, fate attenzione a come vi sentite, e parlo tanto nel video precedente di questo, come mi sento accanto a questa persona, chi è questa persona, che rapporto ha con la famiglia, che rapporto ha, che cosa mi dice dei suoi genitori, che rapporto ha con i suoi fratelli, ha amici, non ha amici, quali sono state le sue relazioni, come parla delle sue ex relazioni. Perciò, in questa fase di adulazione, idealizzazione, in cui magari ti si fa vedere come fosse l'uomo che tu cerchi nella vita, o come la donna più simpatica, più autonoma, indipendente, sesso, spensieratezza, leggerezza e tutto, poi pian piano tutto questo viene sostituito da foto delle sue ex, oppure parla delle sue ex, paragonate con gli ex, con l'ex, iniziano un po' le assenze, iniziano un po' le critiche, i giudizi, ed ecco, il sesso, la spensieratezza viene pian piano sostituito da questo, da tutt'altro. Però ecco, tutto molto discreto, semplicemente meno bisognoso di te, meno bisognosa di te, però pian piano arriva un nuovo elemento, che ti fa preoccupare, perché dici, ah, non è che l'ho perdo, ah, non è che non mi ama più, ah, perché non è più così come era all'inizio? E qui un punto fondamentale sono i confini, già dall'inizio, sin dall'inizio sono importanti i confini in una relazione. Come reagisce quando tu gli dici no? Fa l'offeso oppure ti aspetta e porta pazienza? Rispetta i tuoi tempi? Rispetta i tuoi bisogni? Oppure cerca di venirti incontro? Oppure gira i tacchi e non è interessato a sentire questo? Come ti senti nella sua presenza? Sei al tuo agio? Oppure non ti senti al sicuro? Ti senti libera di parlare, di dire quello che vuoi, quello che, cioè, esprimere la tua opinione, ti senti al tuo agio dire la tua opinione, il tuo pensiero? Sono domande che bisogna farsi, sin dall'inizio, e i confini in questa fase, dire di no, no, io non cerco questo, no, io non vengo stasera, no, io non esco stasera, no, questo non è negoziabile. Anche perché continuando in una relazione del genere in cui non ti senti al tuo agio, non esprimi le tue opinioni, dubiti, hai paura di dire la tua, ovvio che perdi il tuo potere, parlo del potere interiore, perdi del tuo fascino, no? Non ti senti più così fiduciosa nelle tue capacità, ti tremano un po' le gambe, ti trema un po' la terra sotto i piedi, inizi a sacrificare la tua pace, inizi anche a sorpassare i tuoi bisogni, e tutto intorno a lui o a lei, tutto gira intorno ai suoi bisogni, cambi l'amore con l'ansia, eccitamento, quella sensazione che ti tiene lì sull'orlo, forse mi chiama, forse non mi chiamo, oddio, esco subito, ah che bello questa sera, ma domani è un disastro, questo non è amore. Tu non fai altro che soddisfare spudoratamente, solamente, esclusivamente i suoi bisogni, ma tu dove sei? Perciò la relazione evolve, ok? Loro nel rapporto danno priorità al potere e sacrificano il rapporto, mentre tu sacrifichi te stesso, ok? Pure di tenere in piedi un rapporto così. Loro si mettono sempre al primo posto e sempre al primo posto mettono le tue insicurezze, sempre in vista le tue insicurezze, sempre lì pronto per essere un po' sarcastico, per fare una battutina un po' sarcastica, ah guarda la mia ex com'è bella, sembra una modella, ah guarda la mia ex quella ricca che ha due ville, due non so, case al mare, due macchine e non so, non lavora perché ha tutto, vive di rendita e fa così e tu ti dimentichi sempre di più di te, in mentre loro sono sempre interessati a star sopra, dove in un rapporto normale, sano, emotivamente sano, quando hai a che fare con una persona emotivamente sana, quella persona non vuole star sopra di te, ma vuole andare in una direzione longitudinale, cioè a lungo con te, non sopra di te. Non è interessato al potere, non è interessato al potere in tal modo per sacrificare il rapporto e i confini sono sempre importanti, ma per mettere i confini davanti a un narcisista c'è bisogno di consapevolezza, perché finché non sai con chi hai a che fare e non sai cosa sta facendo l'altro, tu i confini nemmeno ti passano nell'anticamera del cervello, che serve dire di no, che forse serve fare un passo indietro, che forse serve a riflettere un po' sui suoi comportamenti, i confini sono fondamentali anche in questa fase, quando ci sono tanti punti di domanda, oh aspetta cosa succede qua? Perché spesso ci si dimentica proprio di avere dei diritti, perché spesso in relazione con un narcisista ci si dimentica dei propri valori, per paura di essere lasciati, per paura di essere abbandonati, per paura di essere rifiutati, per paura della rabbia, di come reagisce, o del giudizio, o delle critiche magari davanti agli altri, o perché ci si sente come un peso all'interno della relazione, perché ti fa sentire così, ah guarda che la mia vita prima di essere con te era tutta un'altra storia, ma da quando sei tu mi è incasinato la vita, certo che ti senti un peso quando ti ripete questa cosa più di una volta, e io mi sono ammalata perché sei tu così difficile, perché dobbiamo sempre discutere, perché tu non ti fidi, perché non... E poi inizia la fase di svalutazione, è sempre più evidente, quando ci sono magari le pause di riflessione, quando ci sono le assenze, quando si fanno le vacanze ma non c'è più la gioia di una vacanza, quando ognuno sta per conto suo, è sempre cupo, è sempre nervoso, è sempre scontento, si litiga spesso, ti critica spesso, ecco la fase di svalutazione, beh spesso è perché c'è già un'altra persona, spesso perché tu hai già visto chi è, e glielo fai capire, e glielo rimandi l'immagine di sé, non quella perfetta dei primi giorni, non è più divertente per lui avere una persona, avere uno specchio che gli dice guarda sei difettoso, sei fragile, sei problematico, tu non sono io quella che ha problemi, non è divertente stare con una persona così, vuole sempre qualcuno che non lo conosce, vuole sempre qualcuno che non sa della sua vera natura, perciò tu ti senti sempre più, sei sempre più alla deriva, sempre più ansia, tutto fumo, tutto confusione, e lui o lei ti dà sempre briciole, nulla di concreto, non è mai di sostegno, non è mai di supporto, tutto è un logorarsi. Ma quando ti dice io non ti amo più, non ti voglio più, non hai capito che io non ti amo più, non hai capito che io non voglio più avere a che fare con te, non sei la persona giusta per me, mi sono reso conto che non sei tu quella persona per me, magari dopo 4-5 anni di relazione si arriva a dire questo, non so, oppure ho bisogno di una pausa, è tutto così veloce che deve prendere una decisione, lì c'è un'altra persona, dal mio punto di vista il 99% dei casi c'è un'altra che l'aspetta, un'altra persona, e da questo punto in poi non c'è più via di ritorno, dal momento in cui non c'è più rispetto, ci sono i ditigi frequenti, dice che vuole pausa di flessione, va via, poi magari torna, poi magari va via, non ci si, non lo vedi più come era all'inizio, non c'è più quella persona, o non c'è più lei come era all'inizio, e tutto dipende, tutto dipende da te, da quanto tu toleri l'abuso, perché per esempio i narcisisti covert tengono i piedi spesso, volentieri, in due scarpe, sta bene con te a casa, magari ti umilia, tu intanto pulisci la casa, pulisci i figli, li fai da mangiare, lavi i piatti, gli indumenti, è tutto ok, ma lui ha una vita parallela, o lei ha una vita parallela, perciò pur di mantenere questa immagine perfetta di padre, di famiglia, di buon padre, buon marito, casa del mulino bianco, pur di tenere in piedi un'immagine perfetta, l'abuso è forte in questo caso, se tu toleri, perciò tutto dipende da quanto tolera l'altra persona, la partner, l'abuso emotivo, sessuale, fisico a volte, perciò diciamo che con un narcisista, covert, la rottura, a volte è lunga anche in questo caso, ma credo meno, come dire, è più indolore rispetto ai comportamenti del narcisista covert, che è un logorarsi fino alla morte. Il covert non dirà mai che, non lo so, che si vuole separarsi, non prende mai posizione, non prende mai una posizione netta, non è conveniente, perciò entrambi non dicono mai, e noi finiamo qua la relazione per colpa mia, non è la sua responsabilità, non è che dice io vado perché ho un'altra, è colpa tua perché sei difficile, perché sei complessa, perché sei pesante, perché hai dei problemi, perché non lo so, ma è sempre colpa dell'altro in entrambi i casi, non si assumono la responsabilità, è come un bambino che dice no, non ho rotto io la televisione, non so qualcun altro, non sono stato io, è così, non è colpa mia che hai finito questo rapporto, è colpa tua sicuramente, non sei capace di stare in un rapporto, sei gelosa, sei possessiva, sei pazza. Io a volte dico è meglio uscire da un rapporto, anche se non necessariamente che devi uscire come dire vittoriosa, non è che devi vincere, è meglio uscire da un rapporto e acquisire la serenità, piuttosto di sentire dalla sua bocca che gli dice è vero, ho sbagliato, non pretendere questo, è meglio che tu te ne vai, anche se ti dice è colpa tua, ok, ok, importante che tu sei sereno, tranquillo e lontano più possibile da questa persona che ti ha fatto così tanto male. Ecco perché finisce un rapporto, perché una volta che tu vedi e senti con chi hai a che fare e rimandi quest'immagine al narcisista, beh qua arriva la noia, il fastidio, non c'è più divertimento, non vuole avere a che fare con una persona del genere che gli rimanda l'immagine di se stesso. Perciò prima di uscire da un rapporto abbi un piano di uscita, mettiti in sicurezza prima di uscire dal rapporto e poi comunica che te ne vai, fai tutto con tanta cautela perché è meglio, è meglio, soprattutto se hai a che fare con gente che magari è aggressiva o sono stati aggressivi. E poi vale la pena, vale la pena riprendere a vivere, avrai, non lo so, delle ruminazioni, dei pensieri ossessivi su questa persona, no? Nei primi periodi, ma poi passa tutto importante essere consapevole che quel rapporto era un rapporto distruttivo, dannoso per te e la consapevolezza fa tanto, la consapevolezza ti fa abbracciare il cambiamento. La cosa positiva secondo me è che quando magari ci sarà un altro rapporto, tu che sei uscita da un rapporto tossico, sarai anche quella più sensibile a capire i bisogni dell'altro, del partner, sarai anche più magari più empatica verso l'altro, sarai anche più predisposta, non lo so, a venire incontro, a capire l'altra persona, perché noterai una differenza colossale da quello che hai avuto e quello che hai. Ovviamente io consiglio a tutte, subito dopo un rapporto tossico, di prendersi un periodo di pausa, di gioire un po' della propria quotidianità, della propria solitudine, così di stare anche nella solitudine, anche perché puoi incontrare magari la persona della tua vita in un periodo magari in cui non sei pronta, non sei pronto e magari hai dei sbalzi di umore, magari non sei pronta per accogliere un'altra persona, davvero pronta per accogliere un'altra persona e vale la pena stare anche per fatti suoi, un periodo uscire con gli amici, andare a fare sport, iniziare a fare una dieta, rimettersi a posto con il conto in banca, avere dei progetti, nuovi progetti, obiettivi, seguire i propri sogni e io vi lascio qua. Spero che vi è piaciuto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi a questo canale per favore se vi è piaciuto, se vi piacciono i miei temi, poi se volete un confronto diretto con me io lascio la mail nella descrizione e ci vediamo presto con altri temi spero interessanti.